Ma le sfilate non finiscono qui, amici miei. Eh no, non ci sono soltanto gli ebook, ma ci sono anche gli audiolibri, ma ci sono anche i videolibri, ma ci sono anche degli ebook multimediali che si possono vedere su qualsiasi piattaforma iOS, Android, eccetera, eccetera. Diamo un'occhiata a questa ultima lunga sfilata degli audiolibri, dei videolibri, dei libri multimediali di Simonelli Editore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.